Spettacolare carambola con Filotto ieri sera in Viale Adriatico a Fano. Intorno alle 23.30 un SUV Hyundai Tucson condotto da un quarantenne di Pesaro per ragioni ancora in fase di accertamento ha sbandato improvvisamente sulla destra centrando in pieno i cassonetti della raccolta differenziata posizionati tra gli alberi trasformandoli in palle da biliardo impazzite scaraventandoli a diverse decine di metri per poi dopo un vistoso testa coda rovesciarsi su di un fianco di traverso sulla carreggiata. Il cassonetto giallo della raccolta della plastica ha terminato il suo volo contro il muro e la grondaia dell'hotel Marina mentre quello rosso della carta si è accartocciato su se stesso come una lattina. Fortunatamente le conseguenze sono state meno disastrose dell'accaduto. Nessun altro veicolo coinvolto né persone di passaggio. Anche il conducente del veicolo non ha riportato danni fisici per cui non è stato necessario l'intervento del 118. Sul posto per i lievi di legge una pattuglia della polizia stradale di Fano.